la collezione di albini donna per l'autunno inverno 2021 2022 è un omaggio alla natura che nella sua forma estetica è stata per noi una grande fonte di ispirazione natura intesa come modello di bellezza intrigante e audace l'abbiamo ammirata come si fa con una rappresentazione artistica dove gli elementi naturali sono usciti dal loro contesto per diventare i protagonisti ecco come è nata questa collezione che si snoda su tre mood principali il ghiaccio i lampi e il caldo per questo mood il nostro punto di riferimento è stato il ghiaccio il ghiaccio è un elemento ricco di sfaccettature trasmette forza e decisione e i suoi riflessi danno vita a particolari giochi di luce queste caratteristiche ci hanno ispirato a creare una paletta sofisticata dai toni algidi e polverosi prendendo ispirazione dalla superficie del ghiaccio abbiamo dato un risalto alla fluidità dei tessuti in questa collezione sono presenti molta seta e molto tensel che conferiscono un tocco femminile e sinuoso qui l'ispirazione arriva dal contrasto fra buio e lampi i lampi hanno questa capacità di dipingere il cielo come un'opera d'arte illuminano improvvisamente l'orizzonte dando un tocco di teatralità inaspettata i colori di questo mood sono scuri ed intensi i tessuti sono corposi materici e strutturati alcuni tessuti sono cangianti e creano preziosi giochi di luce proprio come lampi improvvisi in questo percorso la transizione al caldo è stata un passaggio naturale un cambiamento così forte ma così autentico in natura ci ha permesso di indagare nuovi orizzonti sono orizzonti legati a colori caldi a nuance che si rifanno alle tonalità della terra il tema centrale è il calore che viene declinato non solo nelle palette ma anche nei materiali è il regno delle lane e delle flanelle che anche nei touch sono intensi e avvolgenti come un caluroso abbraccio una collezione ricca e raffinata con tre personalità ben distinte che insieme offrono una vasta gamma di possibilità grazie a tutti